Salve, sono Fabio Castiglione, sono un andrologo che lavora a King's College Hospital di Londra. Oggi abbiamo assistito a tre interventi di chirurgia protesica, una maleabile e due protesi tre componenti. E' estremamente interessante il caso con il paziente che soffriva di malattie di Leperoni, con una curvatura di quasi 100 gradi dorsale. Il professore Antonini ha eseguito la sketch technique con una rottura della placca e modeling della protesi e ha quasi il raddrizzamento del pene. Sicuramente dopo un mese di cycling andrà completamente a posto. Abbiamo anche assistito a un'insezione della protesi maleabile per via infrapubblica, che non avevo mai visto, l'operazione è andata perfettamente e sicuramente il paziente potrà fare attività sessuale immediatamente dopo la protesi. E' stata un'esperienza, come al solito, unica. Sicuramente la velocità dell'intervento, i step sequenziali e sicuramente la posizionamento della protesi e della pompa sono le cose più interessanti che ho visto oggi.